Inizio partita! Nella stagione 2013-2014 colleziona 18 presenze nella massima serie con la maglia del Catania, mentre la stagione successiva in serie B è condizionata da un brutto infortunio che non gli preclude comunque il passaggio alla Roma. Intanto arriva anche l'esordio con la nazionale maggiore della Slovacchia il 5 marzo 2014, nell'amichevole vinta per 3-1 contro Israele. Nell'estate del 2015 approda così alla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il debutto con i giallorossi arriva il 4 ottobre 2015 nella vittoria per 4-2 contro il Palermo quando subentra a Florenzi. Intanto Norbert disputa anche gli europei con la maglia della Slovacchia, giocando da mediano e davanti alla difesa la sua prima partita nello 0-0 contro l'Inghilterra. Nell'estate del 2016 la Roma riscatta il difensore slovacco dal Catania per un milione e mezzo di euro. A seguire la cessione in prestito al Pescara in Serie B dove disputa la prima parte di stagione prima di passare, sempre in prestito, il Russia al Terek Grozny. Nell'estate del 2017 approda al Bari dove colleziona 27 presenze in Serie B segnando un gol, guarda caso, proprio al Perugia. La scorsa estate così il passaggio in bianco rosso, per lui un gol finora a Perugia da ex nella vittoria per 2-1 contro il Pescara. Da quella rete sono passati ormai due mesi, quanto basta per tornare a vedere Norbert sfoggiare di nuovo quel cuoricino.